Ok, via! Ciao a tutti! In questa nuova gameplay di Metal 9672 Metal 967, sono le 16 precise Fammi entrare, qui sto da dentro Questa è la turbin chiave, ma no, guarda Vogliamo salvo fuori? Ecco Vai, gameplay over 2, ok Come? No, hai la chiave, davvero? No! Non è servito a nulla a chiudere la porta, dopo tutto sono io che ci rimetto qui, bravo ci ripeto i soldi Non c'è tempo per auto Eh, commissare Ecco la roba lì, devo ammissare e dico mamma, devo avvisare come andà Vabbè, benissimo, intanto a me mi lascia girare per il corridoio, naturalmente Quello non sfidarlo Per forza, Alex Grazie, dai! Non scherzare principiante E' un magico professionista Ecco, anche te con faria di superiore di camera, non do perdere anche te, quindi Se avrai Pokémon a livello 11 sicuramente No! E se avrai la Cashcon che sarà una merda Ecco infatti la merda bianca volante Ah, vabbè, vabbè, di niente Spinata poi Vai, fai il foglielano Ehhhh Ehhhh Ok, non fai niente Soltanto vi togli tutto Ecco Eccovi, rolex 69 punti ex La prossima volta che ti sale è il 25 o il 26 Bene, è arrivato il mio lavoro Adesso non potrò ricevere il bonus, bravo Sto discorrendo ancora un paio Bene, ciao Vuoi non sfidare Non c'era la Pokémon qui? No, vai sfidare avanti Ecco sfida quello la Non quello! Devo sfidarlo Ma non per forza Si Ma potevi andare di là e sudare subito lei Eh, ma io ve lo sudare anche lui Vale Ma chi è lei, il capo? Si, il capo del primo calasso Già lo devo battere? Non so Allora Ecco la merda dei vinte Grotle, grotle Grotale 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 E' uguale Poi l'ama Fai E' tagliare sicuramente tutto Ma per forza Ok Cosa chiedi? Mi chiamo Alex? No, mi chiamo Davide Bravo Grazie Prego C'è di che Portare il giro di 15 punti Allora Grazie Dai, dai, dai Malata in campo da Regolta Galassia Bello Questo qui mi piace Appena lo vedo lo capuro Se lo vedo C'è male C'è male Cosa fa schifo? Cos'è sta roba? Brucia pelo? Brucia pelo Ah, mi rasa anche Ti rase Eh, questa antenna Ah, lui lo fa tanto Eh, adesso... L'attacco E' uguale Dai, dai, stasera vieni a vedere che c'è il mio bianco e nero Si Ok Ok, qui ci Alex Allora Poi vieni a prendere il gelato No Dai Sì, dai Alex Ok Senza di quanto tu mi riesci Cosa al livello 19 E basta, dai Mi stai deludendo Eh, sì, basta Hai avuto la meglio sull'Eco da Galassia Ma dai Non sopporto gli allenatori giovani e forti Ah, meglio Grazie per la... Dai, va avanti Sfida con l'Eco da Rosso Ma non quello Si può neanche citare questo Mmm, sarà meglio Sono uno dei tre comandanti del Team Galassia Stiamo cercando di creare un modo migliore di quello di... Ah, sì, sì Ma la gente sembra non capire i nostri intenti Anche tu non capisci, vero? E' molto triste Allora direi che possiamo lottare per decidere cosa fare Se vengo io, tu te ne vai Se vinci tu, se ne vai il Team Galassia Ok Dobbiamo dare via il Team Galassia Ecco Sì Ok, guarda che si gara Quindi tu crepi sicuramente Dopo la rivediamo quando andiamo al lago di Valora Sì, poi c'ha la Tsubat che... Sai da metterci a tenere Tsubat? Non vuoi di niente? Poi il lama Ma dai Lo ingatti Vieni Sì Tu un sacco Davvero Sarà impegnante difficile da fare questa cosa Stagnatrice Pazione Pazione che è più male Nooo Ma spiegare con foglia lama C'è la pozione? C'ho io c'ho la superpazione Ale A super? Eh già Anche le pozioni, però c'ho la superpazione La sveglia Una superpozione c'ho Un po' credo Tossica Oddio Tossino Superavelenato E' impervenenato Oddio 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 Un po' vediamo Un po' vediamo Oddio Oddio Terapia è stato Ma io ce l'ho e vai Se non l'avessi E vai Togli un bel po' con graffio Quanto? Così Va bene Trocca un po' di lama E' sempre lui di attaccare per prima Oddio Per forza Mi provo di non muorire Mi sa chiede se io l'ho one shot No? Sì Eh se lo quasi Oddio cosa che fa? Perché? Vabbè tanto muoerò Allora Se io attacco subito E muori Lehi 120% Non ti mando mai C'è l'altra funzione Tutto ti mette 50ps Invece l'altro 20ps No 20ps non mi basta 50 ti mette tutto Davide Guarda Non so Ora mi sa che perdi Più te Sono lei Vabbè No ti chiede che faccio Notta Notta Poi le lama Poi le lama E muori Addio E' morta No Oddio Adesso mi fa paura No ma tu non ti ammazza Non so però Non toglie niente Eh no no solo poco Non toglie niente Non toglie niente No Non tanto adesso lo uccidi No no non toglie niente dai Non tanto lo uccidi Le grazie E' meglio che fallevo la cosa Eh Sinti Davvero Ma non puoi esserlo Adesso tu essere Tu Essere arroganti Dalle 20ps Marocchino Ops Non ce l'ho fatta Addio Comunque non importa Mi è piaciuto ruotare contro te Adesso è proprio ora che Io ci saluti E me ne vada Addio Ok ciao Che guai da su te Poi le tingo ad assia Dicevano di volere raccogliere il pokemon Ed energia a tutti i coci Dicevano che era per creare un nuovo universo Unipari I loro discorsi non avevano molto senso per me Non sai quando ti sono Non riconoscenze per avermi salvato Finalmente Posso rivedere la mia bambina Ecco la bambina Ecco subito Bambina Papà Ehi papà Che è successo Sento un odore Sento un odore di merda E' scureggiato Non so stato io Oh si scusa Scureggiato Ho dovuto lavorare duramente Oddio che schifo E' davvero Se l'avete fatto scappare quelle scuregge Cattive Sì quella scuregge Cattive Penso che il pokemon Pallone Un pokemon pallone Un pokemon pallone Non tornerà Ok vai avanti La chiesce è meglio Olè Olè Via E poi finiamo Oh yeah Qui posso andare Sì Dopo andrò lì Lure 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 Quanti molti mancano? Uno Ok ok dai Sono sufficiente Su non fermare E' bellissima E' bellissima E' altrimenti guardi Poi dopo quando cattura i pokemon leggendari Si può andare alla lega pokemon Non c'hai No no Con le quali cose L'avevo 6 No vado col primo che sarà a livello alto E poi con i pokemon leggendari Che saranno su 50 Io vado sempre così L'ho vinto sempre la lega Si con i pokemon leggendari che non trovi neanche Vabbè comunque Ok questo è tutto Per questa gameplay Di metalarone 172 E i dais 7 Vai gameplay over 2 Un saluto dal vostro Davide 97 A cuola E i metalarone 172 Vai gameplay over 2 Mi feceva la battuta Ciao 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 Aspetta guarda Questo nello che si fa Se arriva l'arbero Si Dai va va Ok dai Ciao Voglio solo vedere cosa c'è scritto qua Aspetta Per questo c'è un 5 La Giardin Fiorito Bene Ok questo è veramente tutto Metalarone 172 E dais 7 Vag gameplay over 2 Ciao Un saluto dal vostro Davide 97 E metalarone 172 Vag gameplay over 2 Ok ciao Ciao